Occultamente un ghost in produzione, che ci vorrà fare con quello? A sto punto però, non avendo infestatori sul campo di gioco, quel ghost non mi sembra molto... Fa un ottimo DPS sul... come si chiama? Sulle unità biologiche? No, sui patriarchi, perché in occultamente i patriarchi non possono far nulla e sono troppo lenti e non riescono a fuggire, soprattutto se usa il fuoco preciso che era l'armatura. Comunque sia, ha fatto tre Thor e tre Viking. Sì, occultamente anche per il ghost. Adesso dovrà stare attento a non fare tutti quei corruttori, a non trasformarli tutti in patriarchi. Vediamo... uh, andrà di nucleare? Forse. Potrebbe anche fare un lancio nucleare che comunque sarebbe estremamente dannoso, anche perché non c'è... Non ha rivelatori. Bravissimo, va un bersaggio. Beh, comunque... Non si è fatto sorprendere dai baneling... Come faceva a sapere che c'erano lì i baneling? Eh, perché tu quando vedi tanti baneling così, è una cosa abbastanza comune per lo Zerk, rintanare i baneling nelle zone... Attenzione, non ha chiuso dei pochi, gli ha portato via tutto con i baneling, gli ha portato, gli è entrato in base, gli è attualmente in base... I viking sono inefficienti contro le mutalische. C'erano i baneling sul... Sul... Sul marine scoppiare. Eh sì, sono morti tutti. Ha intanto patriarchi. Patriarchi, allora, è 200 su 200 Moon, quindi vediamo se magari metterà in produzione altre spine, oltre a questa, per ridurre ancora la... Cioè, per aumentare la disponibilità di cibo. Intanto vediamo che Moon attualmente ha otto basi, se non sbaglio. Sì, ne ha tantissime. Nove basi, nove basi, sono nove le basi, sono tantissime. Uno, due, tre, quattro, cinque, sì, sono nove. Allora, ultralischie per Moon, infatti abbiamo visto... 30 baneling in creazione, più... 46 banno. 46, ora aumentano sempre di più. Più patriarchi. Più patriarchi, eh. Di patriarchi, vediamo se riescono a intercettare, a prendere la base che si trova in alto a destra, accanto a quella di Moon. Intanto si stanno muovendo a trinta. Le risorse di Moon, che sono tantissime. Sì, ho, c'ha nove basi, secondo me. È 200 su 200, quasi, quindi non riesce neanche a consumarle, è per questo che deve fare un attacco per produrre altre cose. Guardate adesso come... Da ricordare che i patriarchi quali vantaggi possono avere dai potenziamenti. Allora, sia da terra, sia di aria, perché beneficiano sia dei potenziamenti aerei, sia... Uh, torri in azione che stanno massacrando quelle mutalische. Facciano benissimo le mutalische, adesso... I viking stanno contenendo benissimo i patriarchi. Non ha corruttori per proteggere quei patriarchi, ma già già. No, non so che fine abbiano fatto. Eh, li ha trasformati in patriarchi. Siamo arrivati tutti, è quello che doveva evitare, secondo me. Ha perso... Eh, niente. Ecco, nucleare in coro, in ricerca. Oh, finalmente si vede il missile nucleare. È cazzolanzolo. È una cosa spettacolare. Comunque siamo quasi a 25 minuti di gioco, partita intensissima, direi. Oh, i viking iniziano ad arrastare gli overlord, dovrebbe continuare ad arrastare gli overlord per... No, ma in difesa molto probabilmente, perché... Allora, comunque sta producendo un sacco di speed ring che morferà in banning in massa, esatto. Io non ho ancora visto nessun ghost in azione, però non so voi. Eh, no, li sta producendo... Ecco lì i ghost. Eh, non li sta usando. Probabilmente vuole aspettare, vorrà fare più push contemporanei e sfruttare i ghost per quello, in modo da confondere il più possibile Moon. Allora... E chiudili quei depositi! Eh, è tardi. Poi perché ne ha chiuso uno e basta. Allora gli va nella base di espansione e diventa una cosa ingestibile, eh. E poi non sta muovendo la fanteria. Guarda i ghost, cerca di counterare con i ghost, però gli mangia tutti gli scv. E con gli speed ring ora, anche se muoiono, hanno fatto il loro lavoro. Sì, e Moon, con tutte le basi che si ritrova e quindi di conseguenza con tutte le larve che ha, li riproduce senza problemi. Attenzione sui ghost, li mangia tutti. Comunque ha visto i ghost adesso Moon, quindi siamo sicuri che Moon sa che Bomberst ha anche ghost nel suo esercito, quindi dovrebbe smettere di produrre infestatori. Ne ha quattro. Eh, gli è scato... Eccolo, eccolo che parte. Ecco, il ghost comunque ricordiamo che la crescita funginia rivela le unità occultate per un breve tempo, cioè finché... Come cazzo è forte, Dio santo? Mamma mia. Lo fa a qualsiasi... Cioè, per ogni razza, nel caso vi sfugga questa cosa. Lamp rivela le unità occultate. Appunto, come sono cazzi forti i cazzo di... Anche la tempesta rivela le unità. No, non è vero. Non rivela le unità. No, non è rivela le unità. Ha fatto un drop di... Vabbè, seguiamo le azioni... Per distrarlo da quel ghost, molto probabilmente. Allora, comunque... Ecco, il lancio nucleare in corso. Moon ha individuato la base, è riuscito a pulirla, perde tutte le larve e... Un estrattore. E vabbè, la perde pochissimo rispetto al lancio nucleare. Alla fine il lancio nucleare costa addirittura di più di un estrattore, se permetti. Sì, vabbè, comunque ha provato perché... Spesso se uno fa un lancio nucleare, magari non... Perché quando subisce un attacco nucleare, vedi di solito... E' stato fa drop o multi? Attenzione, drop e... C'è il tuo antimarine in difesa, perciò deve per forza cambiare questa situazione. Intanto le ultralische stanno per spadroneggiare nella base principale. Aprono tranquillamente come una... Ci sono push multipli da parte di bomber, però c'è un push fortissimo da parte di Moon. Quelli che mi sembra messo malissimo. Ecco, non si è accorto! Questo non si è accorto! Spacca lì, però se non ferma quelle ultralische è spacciato. Ecco che scende... No, sei d'accordo, l'ha levato in tempo! Bravissimo, Moon a individuarlo, perde la spina... Le spine... Le spine... E ha perso, però, sapete cos'è? C'era anche qualcosa in produzione in quella base. E qual è il vantaggio di fare il lancio nucleare? Che distruggi tutti i bozzoli che con dentro le unità, indipendentemente da cosa c'hanno, perché non hanno armatura. Eh, allora mi sa che questo lancio nucleare ha avuto i suoi effetti, però questo ultralisca potrebbe ancora fare dei dati... Con rabbia... Si porta a casa un Thor, si porta a casa questo... Sì, si porta da qualche speeding, comunque, continuano alci nucleari e upgrade per l'attacco aereo, mi sembra di vedere, no? Sì! Dalla parte di bomber... Da parte di... Certo! Quei marini infestati! Che fanno sempre comodo per dar fastidio agli SCV che vanno... Io a questo punto punterei depositi, visto la posizione... Al terzo missile nucleare... Guarda come ha posizionato bene quei marauder che impedivano bloccando... Eh, ormai... Bello, bell'intercettivo... Ah! Altro lancio nucleare da parte di bomber... Comunque, bomber cosa sta facendo? Sta facendo quello che fanno i Terran, fondamentalmente... Oh mio Dio! Che è successo? Eh, scusate, probabilmente voi non vi accorgerete di quello che è successo, ma va bene così. Comunque cosa sta facendo? Sta facendo drop multipli, ma sta facendo anche lanci nucleari multipli, quindi il doppio del fastidio. Questi banaling, se soltanto si estendesse un minimo... Infestatori? Con l'esercito, scoppierebbero tutto quei banaling. Attenzione perché questa strategia di fare marauder, carri e tor non è convenientissima, perché se riesce ad ammassare abbastanza Infestor con un fungal growth vanno via tutti, eh. Ricordo che nell'area... Ma anche se riesce a tirare i marini... Ah, quei carri sono... Basta, non ci sono marine e le vicinanze. Sì, appunto, ci sono solo marauder, ci sono pochissimi marine... No, no, sono abbastanza, però... No, sono minacciosi comunque... Sì, diciamo che si è fatto spaventare più della massa che dall'effettività, perché ci sono quattro i marini. Si usasse con la nave medica... Oh, ecco, ecco, adesso vediamo effettivamente il numero di marine che sono... Oh, guarda come li ha portati via bene! Bravo, Bani! Ho visto quel posizionamento di banning lì, è mostruoso. E attenzione, perché si mettono malissimo le cose per bomber. Ha visto, per scoraggiarle muta lì, che ha messo i ghost con lo stealth e li sta attaccando con quale, perché... Eh, intanto però questa base mi sta che è segnata, perché non ha punti di avvicinanza. Vediamo se farà un altro nook con quei ghost lì, ancora su quella base. È che la... Eh, però si avvicina... È abbastanza vicina alla gemissima. Quanti banning sta producendo? 30 banning. Sì, ha 30 banning un'altra base. Altra attacco nucleare. Ecco, giustamente perché... Non ce n'è accorto. Giustamente deve insin... Ecco, interessantissimo. Vedete com'è difficile da individuare mentre... Sì, sull'estrattore. Sull'estrattore si vede malissimo. Oh! Ce n'è accorto però, bravo! Verde soltanto due droni e la base rimane in vita. Eh, dovrebbe tirare un colpo fortissimo e la base va giù, eh! Con un colpo e la base va giù, secondo me... Due colpi, due attacchi, sì, andrebbe giù. Comunque Moon per il momento non sta producendo nulla, mentre Bomber sta puntando sui marine. Questi ghost stanno spadroneggiando tranquillamente sulla base. Un massacro, comunque una partita epica. Sì, sì, lo capisco perché Bomber non cerchi di associare le mutalische con un custodio in modo da andare in giro per la mappa e uccidere. Attenzione, però, perché ricordiamo che il Funger Growth degli Infessatori... Negli Infessatori nell'area del Funger Growth può arrivare fino a 800 danni, che sono tantissimi. Sì, se prende bene è qualcosa di... Altro missione nucleare o due... Due missione nucleare in produzione, intanto però la produzione dello Zerg in quanto miliari e gas è tantissimo, quanto... 342.000 e due... Sta dominando... Eh, guardate come... Ah, altro Nook che... Porta a casa poco, mi sembra che... È andato vino ormai... È andato il Ghost, è andato... Allora, è Bomberi pronto che non è riuscito a espandersi. Sì, è questo il problema... Anche perché tutte le basi sono... Ma poi è anche quella lì dove potrebbe espandersi. C'è l'Overlord che sta facendo la cacca e non... E ricordiamoci che i Terran sono schizzinosi, perciò non mettono le proprie basi sulla cacca. Esattamente. Vabbè. E vabbè... E ora mettiamo... E poi mi sembra... Per il momento mi sembra in vantaggio, anche se... Quella che se... Li prendi un confronto... Ha fatto un amp su gli Infestors che non possono fare il funga e Growth... E vabbè, ma... Fermo. Ma quel caro è supposizionati, benissimo. Massacro di terra, non c'è più niente. Non c'è più niente. I Penneling rintanati! Mamma mia, questi Penneling... E come stanno facendo i Pazzini. Bellissimo. C'è anche un'Ultralisca rintanata lì. Che però... Un'Ultralisca rintanata, famosa Ultralisca rintanata. Dovrebbe fare almeno un Raven. Questa base è condannata. Sì, sì. Questa base qui ora... Ah, dà visibilità con la nave medica. Ah, però, se non sta dentro, guarda che perde con la nave medica, eh. Comunque, è sempre... Sono sempre danni, voglio dire. Quella base di Bomber, invece, è scopertissima. Allora... Dovrebbe difendersi con le muta, anche se non so quanto gli conviene. Sì, e soprattutto sui carri. Sì, perché sono inizio di malissimo. Comunque, la strategia delle mini baneling è eccezionale. È bellissima. Però, bisogna stare attenti al posizionamento. Magari farò una disquisizione in un momento più adeguato su questo. Sì, sì. Gli SCV di Bomber non ce la fanno a trovare poso, perché vengono continuamente arrastati dalle... Allora, vediamo questi baneling porta a casa un bel po' di Marine, devo dire. Eh, sì. Ma si protegge benissimo con i carri, eh. Sì. Però, comunque, c'è un bel po' di Marine. Dovrebbe andare in sigio con quei carri almeno... 46 speedling in produzione! Massacro in unità. Eh, mi sa che qua ci lascia tutto, eh. Eh, a questo punto Bomber mi sa che tra poco sarà... Se non riesce a reagire in qualche modo a difendersi... Eh, ma non sta prendendo più minerali. Eh, infatti, mi sa che tra un po' sarà forzato al GG. C'ha tantissimo gas, ma non prendi più minerali. Guardi gli SCV. Anzi, ne sta perdendo i minerali, va piano però a perderli. Eh, sta producendo SCV, poi. Cosa che, sinceramente... Eh, ma guarda che introiti c'ha lo Zerg, sono enormi, sono. Eh, appunto. Dovrebbe cercare di guadagnare una base. Guarda, non c'è anche la base. C'è quella base lì che balla. È puntata quella, ma niente. Eh, non c'è niente. Tutte le basi sono prese da Moon. Non capisco neanche perché non la porti via ormai, quella che la perde inutilmente. Da notare che lui non... Cioè, Moon è l'unico in gioco che è attualmente esercito, perché Bomber l'ha finito. I 59 sono gli SCV. Forse c'è qualche Marine, qualche carro. Sì, qualche Marine Marauder, però... Ma guarda, guarda che giri assurdi sono costretti a fare i suoi SCV. Questa base. Eh, ci tira... Eh, guarda però, l'hanno visto! Attenzione! Il Ghost che viene mangiato dai troni. Eh, ormai è andato per Bomber. Umiliante carriera per quel Ghost, cosa vuol dire. Imbascan! Fine! GG!